Allora, innanzitutto siamo molto felici di essere qui come Rosso Porpora perché il materiale rappresentato da Marco è assolutamente un materiale interessante, poco eseguito e abbiamo avuto questa opportunità e è interessante anche perché la vita dell'autore è una vita interessante nel senso che madrigalista italiano emigrato a Londra, alla corte di Elisabetta prima, di cui si dice fosse addirittura una spia e questo aggiunge un po' di pepe anche all'esecuzione. I temi trattati nei madrigali sono temi d'amore, interessante è questo gruppo di sei madrigali che facciamo che narra la vicenda di questi due amanti che sono momentaneamente separati perché ognuno ha una storia con un altro, però si amano ancora, si vogliono ancora, si desiderano e quindi alla fine decidono di ritornare insieme abbandonando tutto e tutti. Ad aggiungere interesse a questa esecuzione, per noi personalmente come esecutori ma anche come gruppo, è il fatto che l'intero concerto sarà eseguito dalle parti staccate, una cosa che per l'epoca era considerata perfettamente normale, mentre ora non è una pratica così comune. Quindi per noi è anche una sorta di esperimento, per quanto già tentato da altri, ma mai praticato lungamente, diciamo, di solito viene relegato ad un esercizio di un concerto, mentre per questa produzione abbiamo deciso di forzarci ad adottare questa pratica antica, diciamo. Siamo molto felici, speriamo che tutto vada per il meglio, sia qui a Fabriano che poi a Utrecht. Grazie. Siamo qui a Fabriano con Rosso Porpora e Marco Mencoboni per questa musica inedita di Alfonso Ferrabosco, dei Madrigali a 5 voci. Non me li aspettavo così interessanti, sinceramente, quando li studiavo a casa in queste settimane e poi metterli insieme con delle voci come questa sera è molto interessante. La sala è meravigliosa e a riscoprire questa musica è un piacere e anche una bella opportunità sia per me come singolo, ma sia per il gruppo, per Orso Porpora. Tutto questo concerto è una preparazione anche del concerto che andremo a fare a Utrecht dopo domani e siamo tutti un po' in fibrillazione per questa occasione e non vediamo l'ora di poter eseguire questa musica e proporla al pubblico tutti insieme. Siamo in sei cantanti accompagnati da Cristiano Contadini alla viola alla gamba e Marco Mencoboni con la sua energia e coinvolgimento nella musica è sempre un piacere incontrarlo.